Vi racconto una storia. La storia di quelle persone vestite di giallo. Persone che aiutano il prossimo in modo anonimo, senza mai pretendere nulla in cambio. Cosa fanno? Contribuiscono alla campagna antincendio che ogni anno affligge i nostri territori. Spargono il sale quando le strade si ghiacciano, spallano il fango dopo un ubifragio, aiutano gente a comunicare dopo un sisma, quando niente funziona e loro ci sono. Si preparano migliorando le competenze per essere pronti a fronteggiare qualsiasi evento ed essere sempre d'aiuto e mai d'intralcio. La loro soddisfazione è di sapere di aver fatto del bene, anche se questo non verrà mai riconosciuto. Chi sono io? Ero come voi. Adesso sono come loro. Sono un volontario. Grazie a tutti. Grazie a tutti. niente funziona e loro ci sono. Si preparano migliorando le competenze per essere pronti a fronteggiare qualsiasi evento ed essere sempre d'aiuto e mai d'intralcio. La loro soddisfazione è di sapere di aver fatto del bene, anche se questo non verrà mai riconosciuto. chi sono io? Ero come voi. Adesso sono come loro. Sono un volontario. a fronteggiare qualsiasi evento ed è di sapere di aver fatto del bene. a fronteggiare qualsiasi evento ed è di sapere di aver fatto del bene, anche se questo non verrà mai riconosciuto. Grazie a tutti.